E allora ciao Pino, ma perché non riesce più a saltar fuori niente di veramente rock con un'anima veramente rock? Tu cosa ascolti ultimamente? Marco da Treviso Quando è venuto fuori il rock, quello vero, non era solo musica Quelli che scrivevano, cantavano, suonavano, avevano dentro dei valori, avevano dentro una rabbia Volevamo cambiare il mondo, volevamo cambiare, un mondo dove ci sia dignità, un mondo dove ci sia amore, rispetto E tutto questo era il rock Adesso non c'è più niente Adesso la gente fa musica perché vuole diventare famosa Si taglia i capelli, si fa crescere i capelli, dipende da quello che sta facendo Se tu quando vedi uno che maltratta un animale, non soffri Se tu quando sentiti che ci sono dei bambini violentati, abusati Non ti viene una lacrima Se tu dentro non hai un po' di compassione, un po' di rispetto Mi fai un po' pena, mi fai, veramente, mi fai un po' pena Mi dispiace per te Perché ti perdi il meglio della vita Perché la vita non è il successo La vita non è avere i soldi La vita è avere dei sentimenti, avere delle emozioni E quelle non te le puoi comprare da nessuna parte E su queste splendide parole mi guarderei un video